Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video, oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Siamo qui a tarda notte, ma per voi forse mattina quando vedrete questo video, per parlare del nuovo episodio di Loki. Episodio che ho visto proprio stanotte, alla sua uscita, ormai l'uscita notturna di Loki è conclamata alle 3 di notte. Episodio con protagonista Sylvie. No, non è vero, non c'è Sylvie come protagonista, ma è una figura cardine, diciamo, dell'episodio, del secondo episodio della seconda stagione di Loki. Episodio cardine perché è tutto ruota attorno alla sua ricerca. La recensione e le chiacchiere che facciamo in questo video sono con spoiler. Dal secondo episodio non starò lì a raccontare la puntata e a recensirla, diciamo, senza fare spoiler perché, sendo una serie tv, insomma, diventa un po' ridondante poi ripetere magari le cose di episodio in episodio. Ma posso dirvi che mi è piaciuta. Mi è piaciuta, meno forse del primo episodio, ci sono alcune cose secondo me che hanno funzionato meno, uno stiracchiamento forse del racconto, l'impressione di film diviso in più parti resta, anche se anche in questo episodio c'è una missione da compiere, qualcosa da fare che in effetti viene compiuto. Quindi anche qua uno status quo che cambia, quindi non è propriamente una parte di un racconto più lungo tagliata brutalmente, ma c'è la sensazione comunque di star vedendo una serie. Questa sensazione continuo a provarla ed è un bene, vuol dire che tutto sommato c'è uno schema, c'è un ordine di episodi proprio in maniera un po' più classica, ecco, rispetto magari ad altre serie Marvel. Detto ciò, appunto, passiamo già a parlarne un po' con spoiler, quindi scappate se non l'avete vista, ma se volete sentire qualche commento, no spoiler, ve li ho comunque fatti. Puntata che mi è piaciuta perché ci ha raccontato appunto un po' l'animo di Sylvie, Sylvie si era rifugiata in questa branch, in questa timeline non ancora tagliata dalla TVA, che ormai non riesce più a stare dietro a tutte le nuove ramificazioni e lavora dal McDonald's, vuole una vita normale e la sta ottenendo, l'ha ottenuta. Ma viene presto ritrovata da Loki, da Loki e Mobius che, come fanno ad arrivare da Sylvie? Beh, catturano Brad. Brad, che dà anche il titolo alla puntata Breaking Brad, da ovviamente Baking Brad, cioè fare il pane, poi ovviamente parodiato anche in altri modi, Breaking Bad, serie ben più famosa. E in questo caso in effetti rompono il povero Brad, viene schiacciato in quel cubo da quel macchinario molto bizzarro che Loki utilizza, quando finge di litigare con Mobius e di volerlo torturare. Quindi insomma, Brad viene catturato, viene catturato negli anni 70, in una delle ambientazioni che avevamo visto già nei trailer, anni 70 che mi hanno divertito, c'erano delle belle location, delle belle comparse, qualche momento di effetti visivi non bellissimi, c'è stato un paio di corse nei vicoli che ho trovato un po' farlocche, però ecco, generalmente la puntata mi è piaciuta anche a livello visivo. Brad viene catturato, Brad era fuggito e invece che cercare Sylvie aveva marcato visita, se n'era scappato dalla TVA e aveva deciso di recuperare la sua vita. Non viene proprio chiarito in effetti se quella sia davvero la sua vita o se si è appropriato di, si è diventato famoso negli anni 70 per qualche motivo, però auguriamoci che dicesse la verità e che effettivamente quella fosse la sua vita che gli avevano strappato, quindi quella dell'attore. Parlando di vite strappate, parlando di Loki e Mobius, mi è piaciuto tanto il loro rapporto. È stato molto approfondito, c'è quella scena della torta che è servita, secondo me, a far comprendere che tipi di personaggi sono. Abbiamo un Loki che ogni tanto deve scendere a patti con il passato, con tutto quello che ha fatto in precedenza. Ecco, forse mi è piaciuto meno il rimarcare così tanto alcune delle cose che ha fatto in passato che tendenzialmente nelle storie bisognerebbe evitare di farlo. Marvel, anche nei fumetti, lo fa poco, questa cosa di far ricordare i cattivi cosa hanno fatto, perché se poi diventano alleati, tipo Magneto, attualmente magari è amico degli X-Men, se ti metti lì a elencare quello che ha fatto, un po' di dubbi ti salgono. Quindi è chiaro, l'Oki ha fatto le cose che ha fatto, però non glielo farei dire così spesso, mi ha un po' sganciato dal fatto che adesso dobbiamo considerarlo più simile a un eroe che è un cattivo, ma capisco il senso, perché poi nella scena appunto della tortura, di quando Brad li provoca, esce un po' fuori anche quell'Oki lì, quell'Oki che dice, guarda che comunque alla fine io sono un cattivo, se vuoi mi comporto da tale. Anche se poi chi è il più cattivo dei due è paradossalmente Mobius, quando impazzisce da un pugno a Brad, e infatti viene fuori il dubbio, no? Mobius, ma perché non provi a capire qual era la tua vita prima che la TV8 te la strappasse? E mi è piaciuto tanto, infatti, la volta in cui si è aperto di più Mobius a livello, diciamo, intimo, dicendo, ma io in realtà ho proprio paura di scoprire che fosse bella la vita a cui mi avevano strappato, e magari non riesco a riconquistarla, magari è troppo tardi, insomma, dubbi vari, fa non voglio avere questo tarlo in testa di una cosa bella che mi è stata strappata, mi godo la mia TV8 che mi va bene, che mi piace, eccetera, eccetera. Bello, bel dialogo. Bel dialogo è stata veramente una bella scena, una delle migliori, secondo me, della puntata, la prima parte della puntata l'ho preferita, perché comunque poi riescono a fregare Brad, vanno nella timeline di Sylvie, qua scoprono appunto che lei gestisce, gestisce e lavora a un McDonald's, e scopriamo che il vero piano della TV8 di Docs non è quello, in realtà, di trovare semplicemente Sylvie, ma intanto è di piazzare delle multicariche, delle cariche diciamo multiversali, per tagliare tutte le varie nuove timeline che si stanno formando. Questa cosa la tira fuori proprio Brad, capendo che stanno rischiando, perché sono in una realtà che magari potrebbe venire falciata da un momento all'altro. Riescono quindi a trovare Docs, ecco, tutta quella parte del confronto non mi è piaciuta neanche a livello di, troppo a livello di regia, è trovata un po' debole il confronto con Docs, quasi sbrigativo, comunque è stato risolto, non nel nulla, come le cariche piazzate nella prima stagione, che non si era neanche visto come le avevano risolte quando finivano in tutti i buchi, qui perlomeno sono stati più diretti nel mostrare quello che volevano mostrare. Detto ciò, quella parte l'ho amata poco, è quella parte che mi è piaciuta di meno, che forse mi ha fatto scricchiolare di più l'episodio, che poi si risolleva comunque con delle nuove trovate interessanti legate a O.B., che nel frattempo sta cercando di evitare il meltdown della linea temporale, e insomma ci viene svelato che per farlo, perché la porta stagna non si apre più, serve un'aura temporale, serve diciamo un'impronta temporale, quasi come le impronte digitali che fanno aprire magari determinate porte, tipo il direttore della banca, l'enorme cassaforte si apre solo magari con il suo codice, con le sue impronte digitali, cui servono quelle di colui che rimane. Colui che rimane che chiaramente non c'è più, quindi si cerca ora Miss Minutes, l'intelligenza artificiale che si è ribellata e che pare in combutta con Ravonna, anzi non pare, perché è stata l'ultima che ha contattato e si capisce che ormai le due sono in combutta, però immagino che Miss Minutes non potrà servire per qualche motivo magari già nel prossimo episodio, e poi si dovrà quindi cercare una variante di Kang. Magari Victor Timely che abbiamo visto nei trailer, con lo scienziato pazzo, interpretato da Jonathan Majors, servirà proprio a quello, magari vanno a cercarlo, perché serve una impronta temporale, insomma un'aura temporale che calzi, e quindi le varianti magari hanno un'impronta simile, va bene lo stesso, credo di sì, non lo so, scopriremo cosa succederà, però mi piace che anche in questa puntata, come ho detto prima, c'è un inizio e una fine con un compito da portare a termine, in questo caso era trovare Sylvie, ed è stato fatto, ed è riuscito, un compito che è riuscito, è stata trovata anche Dox, insomma si è affrontata quella questione dell'esercito mandato in giro, e c'è stato anche un evento tragico, cioè un sacco di timeline distrutte, un sacco di timeline distrutte che credo verranno ripristinate, io credo che se non in Loki, non lo so se questo multiverso verrà completamente distrutto in un'unica linea temporale, c'è quest'idea che la Marvel possa puntare una sorta di software boot all'universo condiviso unico, però lasciare morire così tanti universi, così tanti miliardi di vite, è quella scrittura etica dei blockbuster, dove un po' di buon finale deve esserci, non puoi lasciare fare tutti quei morti, sono tornati con il blip, anche queste timeline secondo me in qualche modo torneranno, non lo so, magari ne riparleremo fra anni, quando magari finirà la saga del multiverso, magari ne parleremo alla fine della stagione di Loki, non lo so, però ecco, questo particolare delle timeline distrutte non è cosa da poco. Quindi sì, prossimo obiettivo, riuscire ad aprire immagini alle porte stagne, quindi Sylvie tra l'altro alla fine della puntata decide in realtà poi di non collaborare, nonostante all'inizio le venisse detto, guarda che c'è il rischio che la tua timeline non esista più, una TVA può servire, la TVA forse è la soluzione, Loki si sta convertendo alla TVA, Kang aveva ragione, colui che rimane aveva ragione, secondo Loki perlomeno, anche se in effetti tenere una linea unica come voleva lui vuole comunque dire ucciderle altre timeline, quindi anche Loki lì, insomma, non mi fidare, capisco che Sylvie non voglia fidarsi molto di quello che Loki tentava di dirle, fatto sta che alla fine Sylvie torna nella sua timeline, va sul suo furgoncino a guardare un po' le stelle, fa la dipendente del McDonald's, anche se guarda il medaglione e dice, ma forse, forse in effetti, chissà, chissà cosa la porterà poi ad essere nel futuro, nel momento futuro in cui ha salvato Loki, o anzi, forse gli ha permesso di essere falciato da se stesso, perché è la teoria che io continuo a portare avanti, cioè il fatto che Loki venga falciato da se stesso. Insomma, sono successe un po' di cose in questo episodio, ripeto, la regia mi è piaciuta, tranne forse proprio lo scontro con tutti gli uomini della TVA, per il resto dell'episodio mi ha intrattenuto, e bei dialoghi, bella la scena della torta, bello anche il confronto comunque un po' con Sylvie. C'è una domanda, tra virgolette, che mi sorge un po' nella... mi gira un po' in testa e chiedo anche a voi. Ma ogni tanto non vi dimenticate che Loki è un dio, perché anche nella prima serie, cioè, lui è immortale, in teoria non potrebbe morire, può essere ferito in maniera... è difficile ferirlo, non è neanche ben chiaro se ha bisogno di mangiare, di dormire, è una divinità. Ecco, io mi chiedo, in questo secondo episodio, usa parecchi poteri, crea delle illusioni, crea un intero vicolo di comparsa, di gente per cercare di fermare Brad, che viene assalito da questi bulli, che poi è tutta un'illusione di Loki. Dei poteri grossi? Non lo so, cioè, una domanda è, ma anche voi ogni tanto ve lo dimenticate. In effetti ho riflettuto proprio col fatto di... Però Loki è un dio, in effetti. Li userà questi poteri? Ci saranno dei momenti in cui magari penseremo, però in effetti non poteva fare quella roba lì? Anche con Brad, forse... Non ricordo se in effetti nella TVA forse non li può usare, c'è anche questa cosa del fatto che non li può usare quando vuole, dove vuole. Non lo so, ecco, insomma, è una domanda. Stiamo attenti a questi poteri di Loki, perché in effetti potrebbe fare delle cose ogni tanto utili e non sempre li fa. Mi è piaciuto che li abbia tirati fuori. C'è da dire anche che magari non vuole utilizzarli troppo, perché vuole staccarsi dall'immagine di Dio, dell'inganno che ha di se stesso, tra virgolette, no? Passatemela in questa maniera. Però, ricordiamoceli, ecco. Ricordiamoci più spesso che Loki è un dio. Questa cosa voglio passarla anche a voi. Comunque, no, bell'episodio, bella atmosfera. Ripeto, c'è quella parte, appunto, di battaglia che mi ha fatto, forse, preferire meno al primo. Credo per quello. Il primo episodio era una novità. C'erano tante cose. Qui, tutto sommato, la trama, ripeto, va avanti e mi piace che c'è, lo ribadisco, un inizio, uno scopo, trovare Sylvie. Insomma, la missione è andata avanti. Ora c'è un ennesimo step. Si procede a step. Ed è buono, perché perlomeno giustifica questa divisione in puntate. Vediamo dove ci porterà la prossima. Credo di non avere molto altro da dire. Il dubbio su Loki Divinità l'ho detto. Gli anni settante l'abbiamo citato. Abbiamo citato l'universo McDonald, che chiameremo così. Sponsor ufficiale, direi, abbastanza palese. Abbiamo citato il fatto che Ravonna e Miss Minutes collaborano, quindi bisognerà capire dove bisognerà andare. Abbiamo citato Ouroboros, il personaggio di Kewi Kwan, che appunto deve fare questa cosa, deve riparare il telaio, ma ha bisogno dell'aura dello stesso Kang, o di Miss Minutes, che forse, essendo un'intelligenza artificiale, può operare sulla TVA e aprire le porte. Il personaggio di Kewi Kwan, che è conosciuto. Ah, tu hai scritto il libro delle regole a TVA, autografamelo. Quindi continua questa cosa del personaggio conosciuto, e qui ovviamente c'è il famoso dubbio, però nella prima stagione non avevano nemmeno scritto il personaggio di Ouroboros. Perché però nessuno lo conosceva? Perché gli cancellavano la memoria? In effetti ci sta. Kang lo faceva, quindi magari lui era solo un nome che cheggiava nella TVA, ma nessuno lo conosceva effettivamente. Come appunto era lo stesso Owen Wilson, Mobius, che nella prima puntata non si ricordava di lui. Ma lui sì. Quindi teniamo sempre a mente che Ouroboros conosce tutto, conosce tutti, si accorge del tempo che passa, ha scritto le cose della TVA. È un personaggio che potrebbe esserci dall'inizio dell'esistenza della TVA e magari potrebbe conoscere molto più Kang di quello che pensiamo. Magari ne troveremo una variante. Magari quando andranno nel passatissimo dove incontreranno la versione di Kang di Victor Timely, ci sarà al suo fianco lui. Ouroboros. Non lo so. O magari Ouroboros è un'entità che Kang è imbrigliato. Non mi sembra un tizio a caso rapito da una timeline. Io ho questa cosa. Voglio, ho questa fissa di capire Ouroboros cosa nasconde. Basta, non c'è nient'altro da dire. Direi che ho più o meno esaminato i vari punti. Ripeto, atmosfera molto bella, corona sonora sempre meritevole, regia anche, tranne nella parte del combattimento, attori molto fighi. Sylvie mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Devo dire che il suo personaggio è assunto ancora più spessore con questo suo desiderio di fuga. Ha dei bei momenti. Anche lì lo scambio con Loki mi è piaciuto. Promossa, dai, promossa. La serie sta procedendo bene. Vediamo, mancano quattro puntate. Comunque, saremo già a metà la prossima settimana. Quindi, il tempo scorre, non come nella TVA dove è molto lento, ma nella real time scorre fin troppo. Non ho nient'altro da dire se non che, appunto, vi aspetto a un prossimo video. Vi aspetto su Twitch dove faccio un sacco di dirette a tema nerd. Parliamo di serie TV, di Loki, in questo caso, di film, di fumetti, di videogiochi. Insomma, venite a trovarmi anche su Twitch. Qua sotto, in descrizione del video, trovate tutti i link per raggiungermi lì e anche su alcuni social. Vi ricordo che se volete sostenere il canale ci sono alcuni modi come, a parte donazioni spontanee, la wish list, tutte cose che trovate qua sotto, c'è Inside Collector, qui il sito dove potete trovare fumetti, action figure, le carte di One Piece, tutto quello che volete e se non c'è, chiedete, mandate una mail perché vi rispondono e vi ordinano magari qualche materiale che vi serve e se mettete il codice sconto UOMO avete il 5%, che male non fa su tutti gli acquisti. se invece volete ancora aiutare il canale e vi interessano le magliette nerd che ogni tanto indosso, c'è NERDO, NERDO Store con un sacco di magliette made in Italy, artisti bravissimi, design unici, ispirati a cose nerd, Magikarp, Ghostbusters, Iron Man, insomma c'è veramente di tutto e anche lì con il codice sconto UOMO avete il 15%, insomma, è un modo per fare acquisti sicuri e in più aiutare anche il sottoscritto, aiutare il canale a crescere e supportarlo. Ma soprattutto, ripeto, vi aspetto su Twitch per chiacchierare in live, leggo tutti i vostri commenti, vado quasi live ogni sera alle 21.30 è un sacco divertente chiacchierare con voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa puntata, se avete idee per il futuro, se c'è qualcosa che non torna, parliamone, magari ogni tanto con il tempo ci sono delle cose che non ci tornano, chiacchieriamo nei commenti perché mi piace anche chiacchierare e fatemi sapere soprattutto la vostra. Noi ci vediamo a un prossimo video e a presto. Ciao!